Alleluia Dal Vangelo secondo Luca Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode Tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello Tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, Elisagna Tetrarca dell'Avilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Per il dono grande per il dono grande del suo amore, soprattutto per questo nuovo anno, nuovo anno della Chiesa, ma anche questo nuovo anno santo, un anno straordinario della misericordia, in cui sicuramente il Signore nella nostra storia vuole compiere il suo progetto di amore, per cui ogni carne, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio e la salvezza di Dio e la sua misericordia. Nel Vangelo di Luca, di questa seconda domenica di avvento, c'è un numero, una data, il quindicesimo anno di Tiberio, così dice questo grande storico, uno storico di primo ordine che è l'evangelista Luca, quindicesimo anno. Secondo gli studiosi siamo tra il 26 e il 28 dell'era cristiana, un'indicazione puntuale, precisa, storica e insieme a dei numeri, a questo numero ci sono anche dei nomi, innanzitutto Tiberio, figlio adottivo di Augusto. E poi c'è Ponzio Pilato, che è stato governatore della Giudea tra il 26 e il 36 d.C., Ponzio Pilato, famosissimo personaggio della Passione del Signore. Quindi ci sono due personaggi politici, ma insieme a questi ci sono anche degli altri personaggi, non dell'ampiezza e della grandezza di Tiberio e di Ponzio Pilato, ma sempre personaggi storici, chiaramente esistiti, che fanno parte della politica del tempo. Sono i tetracchi, coloro che governano su una quarta parte del regno del grande re Erode. Sono Erode Antipa, poi il suo fratellastro Filippo e poi Lisania. Sono personaggi particolari, un po' lugubri, che tante volte sono lo specchio della società dell'epoca. Ma le coordinate storiche non si farbano solamente a una qualità politica, c'è anche una realtà religiosa. Si fa menzione dei sommi sacerdoti Anna e Caifa. Giovanni, diminutivo Anna, era ormai il sommo sacerdote scaduto e deposto dai Romani nel XV. E dopo di lui c'era stato e c'è stato il grande sommo sacerdote Caifa, addirittura sommo sacerdote dal 18 al 36 d.C. Sono anche questi insieme a Ponzio Pilato, dei personaggi che più che del periodo di avvento, sono personaggi del periodo di Pasqua, della Quaresima, perché ci rimandano agli episodi della Passione del Signore. Però proprio in queste coordinate spazio-temporali, dove ci sono dei personaggi, delle persone realmente esistite, c'è un'altra persona realmente esistita, Gesù di Nazareth. Qual è l'intento teologico di Luca? Sottolineare come nella nostra storia, nella nostra storia personale, nella nostra storia sociale, economica, politica, relazionale, nazionale e internazionale, In questa storia, non in un tempo che è parallelo a noi, ma nella nostra storia, quello che noi viviamo, c'è la salvezza. E questa salvezza è Gesù di Nazareth. Che non è solamente il figlio di Maria, il padre Giuseppe, ma è il figlio di Dio, che si è fatto carne e attraverso la sua carne viene a salvare l'umanità. E la sua carne dice la nostra storia, dice il nostro tempo, dice la nostra vita, dice ciascuno di noi, che lui assume su di sé e in sé e redime. E allora, veramente, la salvezza non si realizza attraverso una bacchetta magica, attraverso un intervento straordinario di Dio, ma attraverso l'ordinario Cristo salva l'umanità. E questa salvezza è lo straordinario che si nasconde nelle pieghe, tante volte, sporte della nostra storia. E lui è presente, perché nella sua umanità c'è la mia umanità, un'umanità assunta dal verbo, assunta dal figlio di Dio. E allora io non sono estraneo, anzi, con Gesù il tempo è diventato offerta di salvezza, è diventata la possibilità, il tempo, per conquistare l'eternità, sapendo che l'eternità ha conquistato il tempo, con l'avvento, l'avvenuta di Gesù. E ancora una volta, se tutto questo si realizza grazie all'opera di Gesù, per cui il figlio di Dio non disdegna la nostra umanità, non disdegna la nostra storia, ma la vuole redimere, facendosi carne, diventando uno di noi, forché nel peccato. E allo stesso tempo c'è un invito, un grido di Giovanni Battista, raddrizzate le vie del Signore, raddrizzare le vie del cuore. Già l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, tratta da Baruch, suo segretario di Geremia. Bisogna raddrizzare le vie, certamente non solo tanto le vie che il popolo ha ripercorso, ritornando da Babilonia. Quando nel 586 il popolo di Israele ha vissuto un evento drammatico, la distruzione del Tempio da parte dei babilonesi, e il popolo piangello è andato in esilio. Ora, da Babilonia ritorna a Gerusalemme, con l'intenzione di ricostruire la propria identità, la propria vita, il proprio Tempio. E' attraverso questa ricostruzione che si fa tutto nuovo, per cui bisogna passare i colli, bisogna raddrizzare le vie, bisogna pianare le strade, bisogna colmare le valli, tutto deve essere in ordine, perché dobbiamo accogliere la novità di Dio, tutto deve essere bello. Eppure c'è una bellezza ancora più grande, della ricostruzione di un Tempio, della salvezza di un popolo, e la salvezza che ci viene a portare Cristo. Perché con la salvezza di Cristo ogni popolo riacquista la sua identità, di popolo e soprattutto di figlio, di figlio di Dio e quindi di fratelli. Il Signore vuole realizzare tutto questo, però è necessario raddrizzare la nostra via, camminare sul sentiero giusto, che poi è Cristo Signore. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Cioè Lui è la via della vita, cioè la verità, che viene a illuminare la nostra esistenza, di una luce altra, di una luce invisibile, di una luce interiore, invisibile agli occhi della carne, ma visibilissima agli occhi del cuore. E' questo il regno di Cristo che viene a instaurare. Però per realizzare tutto questo è necessario abbassare la montagna del nostro orgoglio, e soprattutto colmare la valle dell'indifferenza del cuore. E' necessario abbassare il nostro io per far posto a Dio, perché poi il nostro io possa essere purificato ed esaltato in Cristo. E poi aprire il nostro cuore alla compassione, alla compassione verso Cristo che è presente in ogni fratello che ci sta a fianco. E allora chiediamo al Signore, in questa seconda domenica del vento, di riconoscerlo nella nostra vita, nella nostra storia, ma soprattutto che ci dia la forza di seguirlo con un passo nuovo, un passo rinnovato, il passo della fede e quel passo che ci fa seguire Lui e che allo stesso tempo ci mette a fianco a tanti nostri fratelli, soprattutto che vivono difficoltà, che vivono la sofferenza dovuta alla mancanza di cibo, di lavoro, di pace, di salute, ma soprattutto della grazia di Dio.